E' emergenza sicurezza d'Albenga in tutto l'entroterra in Gauno, una situazione insostenibile che ha portato amministratori, forze dell'ordine e cittadini ad organizzare un incontro pubblico a Villanova d'Albenga per pianificare una strategia di intervento comune. Tante le testimonianze delle vittime di furti e di tentativi di violazione della propria tranquillità domestica, ma soprattutto una tensione palpabile che non fa dormire sonni sereni a chi vive da solo in abitazioni più isolate. Più personale di vigilanza, telecamere, anche a infrarossi e controlli dei nascondigli naturali come siepi e infratti sono gli impegni che Cangiano, sindaco di Albenga, con il comandante Soro e gli altri primi cittadini intendono intraprendere in risposta agli appelli raccolti. Ma serve anche la collaborazione dei cittadini nei rapporti di vicinato, nella segnalazione piuttosto che nella costituzione di ronde che non possono avere la giusta capacità di intervento contro i malviventi. Sicuramente di positivo un impegno da parte dei cittadini di riapproparsi degli spazi pubblici, di riscoprire il valore della solidarietà e quindi comunque di fare fronte comune e andare all'origine proprio delle comunità che sono nate proprio per rispondere al primo dei bisogni che è quello della sicurezza. Dopodiché su questa base sicuramente si aprono anche degli spazi di collaborazione con le nostre amministrazioni e con i nostri comandi. Da parte nostra c'è attenzione e sensibilità e c'è un lavoro comunque di rete che vede impegnate non soltanto la Polizia Municipale ma le forze di Polizia dello Stato. C'è un impegno a lavorare con intensità sulla videosorveglianza, quindi dotando le nostre città di sistemi sempre più tecnologici, della lettura targa in particolare, negli snodi di viabilità più importanti. Noi abbiamo il 15 un incontro tecnico come tavolo sulla sicurezza e poi abbiamo un altro incontro che ho richiesto al prefetto del comitato provinciale sull'ordine e sicurezza in cui saranno presenti oltre il prefetto, il questore e tutti i comandanti provinciali delle forze dell'ordine. Io voglio portare quello che è il messaggio di questa sera, cioè le persone sono preoccupate, giustamente hanno paura, vogliono cercare nel limite purtroppo del possibile di una situazione difficile che stiamo vivendo di poter vivere in tranquillità e quindi avere la maggior presenza possibile delle forze dell'ordine fermo restando, che è quello che ho detto questa sera, che le forze dell'ordine stanno facendo già al massimo perché l'impegno che stanno mettendo, la competenza che stanno mettendo e anche i risultati, perché bisogna riconoscere che sono anche dei risultati, ci sono già. Però noi chiediamo un maggior intervento, una maggior presenza e quindi quello sarà quello che porterò avanti per il comprensorio come richiesta al prefetto. È in atto per aiutare lei, perché una sera mi dice che praticamente gli stavano entrando in casa, le bambine spaventate, lei spaventato, il marito spaventato e tutto e io ho detto no, bisogna fare qualcosa. Sono soddisfattissima, sono contenta perché non è una cosa nata così, non ci saremmo mai aspettati, invece secondo me abbiamo avuto delle risposte. Dopo questa esperienza speriamo di poter fare ancora qualcosa e di trovare delle soluzioni a tutti questi furti, a questa situazione che non se ne può più, basta. È stata una bella serata, credo che sia costruttiva e sicuramente sono emerse le preoccupazioni delle persone, della gente, l'ansia che sta generando in tutta la cittadinanza perché effettivamente è una cosa anomala, brutta. Credo che dobbiamo darci da fare tutti quanti per mettere in atto le cose che abbiamo detto e cercare di sensibilizzare anche gli organi competenti perché vengano implementate le forze dell'ordine sul territorio. Io sulla videosorveglianza sto valutando con una nuova società leader in campo mondiale di mettere un tipo di videosorveglianza attiva nel senso che sia anche custodita dalla società, cioè in tempo reale che noi si venga a sapere l'evento, cioè la stranezza, non aspettare il giorno dopo di andare a leggere le telecamere. Vedremo di fare una proposta complessiva anche ai cittadini che sono interessati e chiaramente il comune e magari i comuni vicini, anche l'Albenga ha detto che è disponibile a fare un ragionamento. Facciamo delle valutazioni, io credo che sia una cosa utile perché i frarossi ci consentirebbero di leggere le targhe che oggi non riusciamo molte volte a poter leggere di notte e quindi aiuterebbe. Ma la cosa secondo me vincente è che c'è un operatore davanti che qualunque elemento di stranezza viene segnalato immediatamente in tempo reale alle forze dell'Ordine.